è morto la sinistra è un po' di cima? no, è morto è morto è morto è morto è morto Cosa è un punterio alfabeto del armo per l'estadio? Basta al lago! Vabbè è centrale, cerca l'equilibrio, bravo! È fermo ragazzi! Sì, si fai! un po' di erba al fine il termine del trail